Molte volte si dà per scontato che un matrimonio sia sinonimo di festa. Iniziamo dai nomi, sono i baraccini, tutti a ritmo, vai nomi, su, su, tutti su. Ma lascia che ti faccia una domanda, quante volte ti è capitato di essere invitata ad un matrimonio e di annoiarti da morire perché la festa non c'è stata? Proprio per questo, per far sì che questo avvenga e non sia solo una speranza, un'aspettativa, devi assolutamente sapere qual è la strada maestra da percorrere. La notizia buona è che sei ancora in tempo per entrare in possesso di tutte le informazioni di cui necessiti per evitare che le tue nozze siano un flop. Quello che devi fare è cliccare subito sul primo link qui sotto che trovi in descrizione e avvia una conversazione su WhatsApp con Michela, la mia assistente personale, per richiedere l'accesso istantaneo al video esclusivo gratuito che ho preparato per te dove scoprirai come sconfiggere per sempre la noia. Fallo subito perché sarà disponibile solo per qualche giorno. Ciao!